Non c'è un modo per guarire, non c'è un tempo per rinascere, ma c'è un percorso da seguire, un percorso singolare, sempre unico, che non accetta consigli. E' dentro di te, ma nemmeno tu, tu, lo puoi vedere, magari non te ne stai, prendendo conto, ma in questo momento, lo stai attraversando e resto tardi, giungerai alla fine, non c'è un modo per guarire, non c'è un tempo per rinascere, ma c'è un percorso da seguire, un percorso singolare, sempre unico, che non accetta consigli. Sì, è dentro di te, ma nemmeno tu, lo puoi vedere, magari non te ne stai, rendendo conto, ma in questo momento, lo stai attraversando, e presto o tardi, giungerai alla fine, giungerai alla fine, magari non te ne stai, prendendo conto, ma in questo momento, lo stai attraversando, e presto o tardi, giungerai alla fine, non c'è un modo per guarire, non c'è un tempo per rinascere, ma c'è un percorso da seguire, un percorso singolare, sempre unico, e non accetta consigli, è dentro di te, ma nemmeno tu lo puoi vedere.